Stavolta programmata sul doppio chilometro, otto in prima e uno in seconda fila, Troisi e Tiffany Gara dividono il favore del pronostico in questa seconda, mezzo meccanico in movimento. Nove buoni due anni, seconda del convegno, doppio chilometro, mezzo meccanico in movimento. Si completa la piegata e anche l'allineamento e inizia a prendere velocità la macchina. Il galoppo di Turbine Rall, Tiffany Gara mantiene il comando Tremendoville di galoppo a largo Tordoget. Ha avuto problemi Troisi che è di galoppo e così impiegata l'allieva di Mario Minopoli Junior al comando. E finisce qui purtroppo la storia di Troisi finito a tabellone. 15.4 il lancio e di fronte lunga fila indiana con la donata nover di Mario Minopoli a dettare i tempi. Si va al completamento di 400 iniziali, i 400 nell'ordine del 31 e 3. Grado autorialmente la leader e così accorciano le distanze, i ritardatari e la fila indiana prosegue indisturbata. Si completano i 600 che se ne vanno in 48.4, 17 di frazione. Tutto tranquillo, poi si affaccia a Tesio Disgray numero 7. Si completa la piegata, in seconda posizione è tordo a precedere, Tursio Poggetta. Mezzo miglio iniziale, molto blando, in 1.6 e mezzo. Tranquillo, la Tiffany a dettare i tempi, sempre a modo suo, poiché nessuno per il momento fa ancora la prima mossa. Si va a timbrare il primo chilometro, nell'ordine del 22 e mezzo. Penultima curva, inizia ad accelerare leggermente la donata a Nover, Tesio a largo, nella scia si pone Tiago. Cavaglia al completamento e la piegata, frazione ancora tranquilla in 15.6. E di fronte sempre la Tiffany a menardanza, al salchi Tesio, di dentro tordo a largo Tiago, poi Tursio Poggetta. Frazione di fronte in 14.7, si inizia a pedalare. Siamo ai 500 finali, i cavalli affrontano la curva conclusiva. Si va a timbrare il miglio, la Tiffany Gar lo passa in 2.9, molto scarso. Ora scappa via Tiffany Gar e prende vantaggio. Pochi argomenti per Tesio Disgray, si libera Tordoget e l'allievo di Panico si affaccia. Tiffany ha il comando, viene via il tordo, di dentro Tursio Poggett, ci prova Panico, di dentro Tursio perché è molto incisivo. Tiffany in vantaggio, i cavalli sono in zona traguardo, lotta incerta e sul traguardo probabilmente ancora la Tiffany. ma di un niente nei confronti di Tursio Poggett che è lungo i birilli l'appariglia. Quindi ancora in questa seconda del convegno abbiamo bisogno del giudice d'arrivo, ancora una foto tra i due, tra Tiffany Gar e Tursio Poggett che si infila lungo i birilli sul traguardo l'appariglia, ma probabilmente non riesce a batterla. Però, dati minimi di stacchi, attendiamo il giudice d'arrivo.